Buongiorno, benvenuta a tutte e tutti. Eh sono Michela Centella, direttore responsabile di Forumpa.it, la testata di FPA. Vi do la benvenuta a questa puntata eh della rubrica Studios FPA ehm realizzati quest'anno in collaborazione con Nuvo, il team e Olivetti. Eh gli studios eh gli studios sono un po' anche questi ormai una tradizione per Forumpa, anche in questa edizione appunto duemilaventuno li abbiamo rinnovati e sono appunto delle rubriche durante le quali con i nostri ospiti rappresentanti delle aziende partner parliamo dei principali temi legati all'innovazione in particolare all'innovazione del mondo della pubblica amministrazione. Oggi siamo qui con Carlo Dasaro Biondo, benvenuto. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Allora, Carlo Dasaro Biondo è amministratore delegato di Nuvole e con lui oggi parleremo di cloud eh cloud come leva per la modernizzazione della pubblica amministrazione. Allora, partiamo dalla prima domanda eh naturalmente una domanda un po' di di contesto, no? Quindi vi chiederei eh si parla di cloud, cloud come appunto leva strategica appunto anche per la Pia, in che modo secondo la vostra visione e perché in che modo il passaggio al cloud può facilitare lo sviluppo di un nuovo sistema più moderno, di un nuovo e proprio possiamo dire ecosistema di servizi per la pubblica amministrazione. Eh e come appunto qual è la vostra visione e come voi vi collocate, vi volete collocare all'interno di questo, di questo percorso? Grazie. Io partirei da una considerazione, se ci pensiamo, il livello di esigenza di ciascuno di noi è aumentato molto nel tempo, perché ci siamo abituati a utilizzare prodotti e servizi online, in particolare quelli degli americani, ma tantissimi servizi, non so, Amazon, Google e altri, che hanno una qualità di interazione e di esperienza che è molto buona, che piace, che soddisfa. Quindi ci aspettiamo adesso ciascuno di noi, in tutte le interazioni che abbiamo, eh sia con aziende che con la pubblica amministrazione, che con qualunque entità con cui interagiamo, di avere un livello di qualità di servizio molto elevato. Perché la qualità di servizio è elevata usando queste tecnologie? Perché il livello delle interazioni è molto più ampio, no? Si parla, si interagisce in vari momenti, eh, no, se uno si pensa quando riserva un volo o un aereo o qualcosa, eh, interagisce sempre più un'esperienza mista, sia fisica, sia, sia, sia online. E questo, mischiare le due esperienze rende le cose più facili, no? Se io chiedo un certificato a un'amministrazione online, non devo andare, non mi devo spostare, guadagnerò del tempo, se quindi tutti i servizi, no, beneficiano dal fatto di poter utilizzare la connettività che ciascuno di noi ha tutto il giorno. Il cloud è la principale tecnologia abilitante per tutto questo, perché permette di sviluppare sistemi informatici, eh, senza doverli comprare, potendo affittarli, potendo utilizzarli a un demand, e quindi ci si concentra sul servizio, su quello che si fornisce, su come lo si fornisce, piuttosto che sull'infrastruttura fisica. E gli investimenti sono, sono meno importanti e la possibilità di utilizzare queste, queste piattaforme cloud, permette di innovare, di sviluppare servizi, di sviluppare attività, con sia investimenti che costi, eh, più controllabili e a disposizione di qualunque dimensione, no, se ci si pensa oggi, le piccole e medie imprese possono fare concorrenza alle grandi, usando questi sistemi, anche avendono, eh, del capitale molto inferiore, delle dimensioni molto inferiori. Tanto è vero che questo è così importante, che nell'ambito, eh, del Piano Nazionale Italiano per la Ripresa e Resilienza, il nostro PNRR, eh, la componente digitalizzazione e modernizzazione della PIA, ha a disposizione quasi undici miliardi e mezzo, ed è la prima, no, delle, delle componenti delle missioni del piano, digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e mi pare, eh, rivoluzione verde, transizione ecologica. Quindi l'importanza che si è voluto dare a questo è molto elevata, anche perché in ambito europeo le amministrazioni, eh, di altri paesi lo fanno anch'esse ed è importante che il nostro paese sia, sia all'avanguardia. Il ruolo, eh, di operatori come noi, beh, naturalmente digitalizzare o portare verso il cloud la pubblica amministrazione, eh, è un qualcosa che va fatto con estrema attenzione ai dati, alla loro sicurezza, alla privacy, ai principi, ai valori che si adottano nel definire i servizi e i processi di cui stiamo parlando. Ci saranno quindi in Italia, penso, diversi approcci a questo, no? Si parla di un polo strategico nazionale, eh, che si occuperà di un'infrastruttura cloud nazionale all'avanguardia e sicura, eh, ci saranno poi l'uso del cloud pubblico, eh, securizzato in varie maniere, a seconda delle sensibilità dei dati, dei servizi coinvolti, utilizzano tipologie di infrastrutture diverse, eh, e ci saranno, penso, molti operatori di settori coinvolti nel fornire tutto questo. Nuvol nasce in Team, come la società di Team che completa l'offerta di Team, oltre alla connettività, eh, per fornire le componenti cloud. Quindi in Team abbiamo quattro società, no? Telecom Italia stessa, eh, il network, la, la connessione, la connettività. Poi beyond connectivity, sempre nel gruppo Team, la parte, eh, Internet of Things con Olivetti, la parte sicurezza con Telsi, eh, la parte, la parte cloud con noi. E naturalmente, eh, lavoriamo sulla definizione di offerte sovrane e di processi che permettono di utilizzare il cloud in maniera, eh, specifica, su misura per le problematiche della pubblica amministrazione, come quelle delle grandi imprese anche, o delle PMI. Bene, e, diciamo, già lo stiamo accennando, quindi i principali benefici del cloud, ehm, un tema molto importante è quello della, della sicurezza naturalmente, della sicurezza dei dati e della sicurezza delle informazioni. Ehm, su questo, secondo voi, ehm, quali sono le criticità? Eh, come si deve lavorare, insomma, è un tema abbastanza, ehm, che è stato abbastanza, diciamo, affrontato, oppure ci sono ancora dei temi, diciamo, degli aspetti da, da, da approfondire? C'è molto lavoro da fare. Io vorrei partire prima da una constatazione. Di cosa stiamo parlando? Ehm, la sicurezza può essere legata alla cyber security, proteggersi dagli attacchi che vengono dall'esterno. E, eh, un dato che a me è impressione, ma che condivido con lei perché è un dato che trovo preoccupante, è che lì, dall'anno scorso, gli attacchi di cyber security sono aumentati, eh, secondo istituti come il Gartner, di circa il centocinquanta per cento. quindi è chiaro che un'attenzione a la protezione delle proprie infrastrutture da attacchi esterni è un qualcosa che diventa sempre più importante. Questo però è solo un elemento. Eh, l'altro elemento importante è tutto quello che chiamiamo noi compliance, ma che è comunque legato alla sicurezza, che è dire, ma come faccio in modo che i dati non vengano comunicati a chi non li deve avere? Come faccio in modo che si rispettino i determinati valori nel costruire i nostri processi di gestione, eh, che si abbia rispetto non solo per la privacy, ma anche, eh, per l'attenzione generale, eh, che diamo all'utilizzo delle informazioni che abbiamo. Questo mondo della compliance è un mondo estremamente importante. Perché è così importante? Perché parte da una costatazione, purtroppo, tra il 2016 e il 2020, il privacy shield e gli accordi, in particolare con gli Stati Uniti, su come si trattano i dati, sono caduti. Gli Stati Uniti hanno elaborato il Cloud Act, che è quella legge che dice che possono entrare nelle piattaforme di operatori americani ovunque siano nel mondo. Quindi è chiaro che questo significa che siamo, direi, costretti ad avere delle piattaforme che dipendono soltanto da operatori, direi, europei, direi addirittura anche del nostro paese, perché se vogliamo che le nostre legislazioni siano sempre rispettate, se vogliamo poter garantire un controllo assoluto, la logica diventa addirittura di dire voglio dipendere soltanto dalle leggi del mio paese. Questo significato rivedere le infrastrutture per assicurarsi che questo sia il caso. Quindi vedere quando si fanno delle collaborazioni con operatori non italiani, come fare in modo che il controllo della gestione del dato e dei processi sia in mano a operatori italiani. Questo naturalmente ha creato l'esigenza per un gruppo come Team di dotarsi di una struttura come Nuvole, di sviluppare offerte specifiche intorno alla sovranità e di guardare il cloud in maniera completa. Di cloud di solito si parla di tre tipi di cloud, il cloud cosiddetto privato, che è un data center o qualcosa messo a disposizione di un'unica entità specifica. L'ibrido che dice io devo andare verso il web, verso il cloud pubblico, perché? Perché devo accedere, devo toccare una quantità molto importante di utenti e quindi ho bisogno di queste grandi piattaforme per farlo. Sto pensando per esempio a tutto quello che è successo con il Covid, i vaccini, eccetera. Per prendere un esempio, se voglio toccare tutta la popolazione, in qualche modo avere accesso alle piattaforme Android e Apple può avere la sua importanza. Però se voglio rispettare i miei principi, devo farli in modo controllato. Ecco, l'architettura, la modalità in cui si utilizzano le varie forme di cloud è qualcosa che naturalmente va studiata con estrema attenzione e questo è il ruolo di operatori come noi, che sviluppano soluzioni in funzione dello specifico processo che l'azienda vuole mettere in piedi, con però degli obiettivi che poi verranno ogni volta definiti insieme. Magari alcuni obiettivi dell'uso delle cloud possono essere legati a conoscere meglio l'utente, a interagire con lui in maniera più efficace, a essere più veloce, a migliorare alcuni costi di produzione perché si lavora meglio insieme ad altri, a migliorare l'esperienza lavorativa dei propri dipendenti perché si vuole che non possano appunto fornire un servizio migliore in modo più semplice, mettendo in comune alcuni documenti perché così si lavora meglio, collaborando in maniera più efficace. Tutti questi obiettivi del cloud, definendo poi dei processi specifici, sono oggi a disposizione della PA con offerte direi totalmente controllate dall'Italia, facendo uso eventuale di operatori non italiani in maniera totalmente sicurizzata e controllata in modo che la registrazione applicabile sia sempre e comunque la nostra. Diciamo quindi, allora abbiamo detto il tema dei dati, implica appunto anche una riflessione turistica, ma naturalmente è un tema anche di grandi opportunità. parlando un po' della vostra impressione sulla sensibilità a questi temi, secondo voi all'interno delle amministrazioni è cambiata, in quest'ultimo anno in cui appunto tutto quello che è successo ha portato anche per necessità, no? Ad adottare delle piattaforme, delle tecnologie, delle soluzioni in maniera molto diffusa rispetto a quanto veniva fatto prima. Per voi è cambiato un po' anche proprio l'approccio, la sensibilità, la visione da parte proprio delle amministrazioni su questi temi? Quello che le dicevo prima, se sull'esigenza, credo che lo sentano anche tutti gli operatori della pubblica amministrazione, gli uomini e le donne che lavorano nella PIA. Tutti noi abbiamo vissuto in questi ultimi due anni il periodo Covid, dovendo, o torto collo, per forza o per piacere, utilizzare sempre di più queste tecnologie. Credo che oggi il livello di consapevolezza dell'importanza dell'utilizzo delle tecnologie del web sia molto forte nella PIA. Il desiderio quindi di andare avanti e di usufruire di questi servizi anche nella vita professionale, no? Di quelli che abbiamo nella vita privata, di portare tutto questo ai cittadini in un certo modo, penso che sia ormai un dato acquisito e una vera volontà. Il problema adesso è come farlo. È come farlo mantenendo le esigenze elevatissime che ha la nostra pubblica amministrazione in termini di livello di servizio, di qualità di servizio e di attenzione a determinati valori e principi che sono fondatori per noi. E quindi è il come su cui bisogna adesso lavorare, secondo me, più che sulla decisione di farlo o no. In questo senso penso che le collaborazioni europee saranno anche molto importanti. insomma, facciamo parte come team di Gaia X, abbiamo stato anche di impulso a svilupparlo in Italia. Ecco, io credo che questi valori a cui bisogna fare attenzione in termini di trasparenza, di apertura, di tutela della privacy, di sovranità, sono cose che sono tutte estremamente chiare per la PA. E quindi lavorando adesso sulla tipologia di piattaforme, in ciascun caso, su come creare delle soluzioni che garantiscono questa apertura, questa trasparenza, questa portabilità, questa collaborazione fra pubblica amministrazione pur tutelando gli utenti, questo è l'equilibrio che oggi dobbiamo cercare. Quindi, diciamo, la vostra visione, insomma, il vostro approccio sulle azioni che stanno portando avanti adesso a livello nazionale ma anche a livello europeo, è una visione, insomma, che secondo voi bisogna andare avanti su questa strada e ci sono magari invece, non so, dei temi, dei principi che secondo voi andrebbero un po' ulteriormente affinati, facendo riferimento appunto a questa connessione tra appunto anche le strategie europee e le strategie nazionali. Allora, per prima cosa direi il motivo, no, per cui i grandi ex-europei, siano esseri americani o cinesi, hanno sviluppato le piattaforme che hanno sviluppato e perché hanno creato degli standard sui loro mercati, che sono mercati di grandissime dimensioni, hanno definito dei principi su come queste piattaforme operano e da lì poi hanno potuto crescere a livello globale. L'Europa si è sempre distinta per essere una terra, adesso non voglio fare storia, non so, abbiamo fatto i nostri errori, diciamo, in passato, quindi oggi abbiamo una sensibilità molto forte a determinati valori, no? Per noi l'apertura, la trasparenza, l'autodeterminazione, il libero accesso al mercato, l'interoperabilità in modo da non creare dei lock-in anche a livello di legislazioni, di regolamentazioni varie, è una cosa importante. Quindi credo che partire dai valori sia fondamentale. Dobbiamo creare qualcosa a livello europeo perché se vogliamo creare degli standard che siano poi opponibili anche agli extraeuropei, no? Con cui collaboriamo, dobbiamo avere un modo di lavorare comune in Europa. Nessun paese da solo può arrivarci. Creando degli standard comuni di operatività possiamo farlo. Ricordo, dicendo questo, che l'internet è un protocollo, no? Il motivo per cui l'internet si è sviluppato come si è sviluppato è che in fondo è un linguaggio che permette alle macchine di capirsi, quindi un protocollo, una lingua, ecco. Noi dobbiamo in Europa sviluppare un nostro protocollo, una nostra lingua che funzioni con l'internet, che però ci permetta di controllare le entrate e le uscite e sapere come operare perché determinati valori siano rispettati. Per me il fatto che sia uno sforzo europeo nell'ambito di Gaia X, che ci siano più di 300 operatori oggi, che le pubbliche amministrazioni siano coinvolte, che i governi diano il loro impulso, che la comunità europea dia il suo controllo, è una grandissima opportunità. In particolare ci aggiungiamo che insomma abbiamo in questo momento anche i PNRR, i fondi europei, per accelerare questa digitalizzazione, per renderci migliori ciascuno di noi nei rapporti che abbiamo con i nostri utenti. Per la PA credo che sia una eccezionale opportunità, se riusciamo ad essere anche veloci, di migliorare il rapporto col cittadino, mi sento di dirla proprio così, di fare in modo che insomma si arrivi a essere moderni, efficaci, veloci, lavorare meglio e fornire al cittadino una qualità di servizio che sia ancora migliore. E tra l'altro, se rispettiamo questi valori e riusciamo a farne degli standard europei, creiamo un qualche cosa per cui l'Europa si distingue dal resto del mondo, su aspetti che sono aspetti sostenibili, di lungo termine, di rispetto del valore umano e io credo che in tutta la pubblica amministrazione italiana, come devo dire anche in Europa, troviamo una particolare sensibilità a questo, quindi credo sia una bellissima opportunità di di costruire insieme un qualcosa di migliore. Per chiudere, a noi piace spesso, insomma, con i nostri ospiti fare un po' un gioco di sintesi, diciamo, di quello che è stato detto e individuare così come modalità tre punti prioritari, insomma, dei temi di cui si è parlato. Quindi se volessimo fare anche con lei questa semplificazione, un po' una semplificazione anche giornalistica, però è una cosa che appunto spesso facciamo come sintesi. Eh i tre punti, le tre parole chiave eh secondo lei su cui lavorare eh o che comunque sintetizzano e rappresentano eh meglio delle altre questo percorso che abbiamo tratteggiato anche in questa breve intervista per appunto far sì che il cloud diventi davvero una leva di modernizzazione della pubblica amministrazione. Eh come quali quali potremmo citare? Primo l'utente per non dire il cittadino o il cittadino all'utente come vuole lei. Sì. Perché dobbiamo concentrarci su come fornire un servizio migliore al cittadino all'utente. Capire come l'utente può utilizzare i nostri servizi, cosa si può aspettare l'utente, capire questa esigenza che io dicevo all'inizio eh essere diventata sempre più forte negli anni perché ci siamo abituati a poter utilizzare no queste tecnologie nella vita di ogni giorno. Quindi l'utente metterlo al centro, ragionare su come fornire cosa può avere l'utente può avere bisogno. Naturalmente stando attenti ai valori. Il secondo direi per me è questo aspetto dei valori. Allora eh apertura, trasparenza, interoperabilità, portabilità, eh rispetto della privacy. Tutti questi sono valori fondatori. Ecco fondare sui valori, lavorare insieme per chiarezza in modo che siano veramente definiti e siano e siano chiari. E rispettarli poi nelle costruzioni che si fanno. E poi stare attenti, ricordarsi che la tecnologia è solo un mezzo, mai un obiettivo. E quindi per me la terza cosa è scegliere le tecnologie adatte dopo. Ragionare prima su cosa si vuol fare, che valori si vogliono rispettare e poi scegliere le tecnologie come un mezzo per arrivarci. Eh essendo direi più possibile agnostici eh rispetto all'uso di determinate tecnologie e una volta definiti i valori scegliere quali riempiono, quali riempiono meglio. Sapendo poi che il cloud anche lui è una modalità tecnologica, ma è una modalità tecnologica che è alla base oggi dell'internet, a base della rete, che è alla base di, insomma, da vent'anni è quello che ha rivoluzionato eh il mondo in cui viviamo. Eh e quindi che insomma adottarlo è direi il primo passo verso questa modernizzazione e digitalizzazione del paese che è importante. Ma penso che saranno anni interessanti per la PIA. Eh penso che sia una sfida anche piacevole e e per quello che ho visto interagendo con la PIA c'è una grande volontà di digitalizzazione, di fare, di semplificare, di 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 prendere in mano tutto questo. Quindi io vedo vedo dell'entusiasmo nelle nelle persone nella PIA, vedo il desiderio di far sempre di più e e credo che sia vista tutto questo come un'opportunità. Quindi io sono molto ottimista sul fatto che eh lavorando tutti insieme si si possa si possa fare un passo avanti molto significativo grazie alle opportunità che abbiamo davanti a noi sia in termini di tecnologia sia di operatori nel paese pronti a agire sia di volontà nella PIA sia anche di di finanziamenti col PNRR quello che sta arrivando. Bene io la ringrazio molto per questa chiacchierata e le auguro naturalmente un buon lavoro. Anche a lei la ringrazio moltissimo. Grazie. Saluto e ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito in questa intervista. Grazie. Arrivederci. Arrivederci e grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.